Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh what fun it is to run a one-horse off a sleigh Si 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 Madonna mia, madonna vergognatevi madonna Buongiorno amici della Zoccolo Duro Buongiorno, buongiorno, buongiorno Come state? Ho 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 Merry Christmas Ho 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 Merry Christmas Buon Natale a tutti ragazzi Oggi è la vigilia 24 Sono praticamente le 9 C'è ancora un buio come se fossero le 11 di sera Però sono le 9 meno 20 Di mattina Di mattina della vigilia di Natale Oggi ci si fa gli auguri Ci si dai baci Ah no, non baciate le nonne dicono Ammazzatevi Comunque, tolte le battute Che poi non sono battute Posso io leggere un giornale Ditemelo voi Posso leggere un giornale dove dice che è meglio giocare senza ibra Ma io posso leggere un giornale che scrive ste robe Cioè Da 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 bruciare Da bruciare il giornale Da bruciare Bruciare Da bruciare Detto questo Si parla ovviamente di mercato C'è chi dice C'è chi dice No C'è chi dice Sì C'è chi dice Che prendiamo il centrocampista C'è chi dice Che pigliamo il difensore C'è chi dice Che pigliamo un attaccante C'è chi dice Che pigliamo un trequartista E quanti giocatori Dobbiamo prendere Solo un giocatore Vorrei io sotto l'albero Indovinate chi è Un preparatore atletico Ecco chi è Non un giocatore Un preparatore Come Dio comanda Quello voglio sotto l'albero Poi tutto il resto Mi accontento Mi accontento Anche se ho sentito dire Che giocherà a Baccaio Speriamo di no Speriamo di no È improponibile Improponibile Comunque adesso feste Tutti in vacanza Ho rivisto un po' le esultanze Perché Sapete che io sono fan Però tanti di voi Mi avete scritto Hai notato Che Chessy non ha esultato Hai notato Perché ti non ha esultato Hai visto le esultanze del Milan Cos'è successo Di qua Di là di su Di giù Allora Per quanto riguarda Frank Chessy Il presidente Trequartista Una volta nella vita E mai più Che si chiama così È il nome proprio Che gli hanno dato Così In realtà si è fatto male Cioè Prima cosa È esultato Stile Ronaldo Il fenomeno Stai con le braccia larghe E va bene Teo è anche andato Ad abbracciarlo E va bene È un'esultanza normale Non esagerata Ma un'esultanza normale Nella seconda esultanza Lui si è fatto male Al braccio Se voi lo vedete Lui si tiene il braccio Perché si è fatto male Infatti dopo Si fa fasciare il braccio Perché si è fatto male Quindi la sua non esultanza È dovuta al fatto Che si è fatto male Di conseguenza Non è che non è esultato Perché va da far figo Non è esultato Perché si è fatto male A parte che Ha fatto un gol Che Vicario Che cosa ha fatto Non lo sa nemmeno lui Però si è fatto male Di conseguenza Era un po' quello Il motivo Della non esultanza E Teo Ha fatto Vabbè Il quarto gol Su 4 a 1 Le critiche Che gli hanno fatto Eccetera 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 Era un po' arrabbiato Ma in generale Bisogna dire Che un po' Tutti i giocatori del Milan Mi sono sembrati Un po' stanchi E un po' arrabbiati Un po' stanchi E un po' arrabbiati Però Tanto stamattina Ho parlato Con una barista Una barista brasiliana Livia Meda Tutto carina E mi fa Però Sono svenuto Quando mi ha detto Però Non lo sa Che faccio youtuber Eccetera Comunque Chiusa parentesi Però io direi Che quest'anno Ormai è finito Così La chiudiamo E a gennaio Si parte un nuovo Campionato Quindi non starei Qui Troppo Ad andare A guardare Delle retrovie Ad andare A guardare Dei pensieri Tanto adesso Vanno tutti In vacanza Tra l'altro Pensa che A fine partita Si sono parlati Pioli e Romagnoli Ancora in campo Ancora Tu pensa Ancora in campo Finisce la partita Fischio finale Pioli saluta i ragazzi Come sempre Si avvicina A Romagnoli E parlano E parlano Di cosa avete parlato Con Romagnoli Fine partita Come è normale Che sia Della traversa Che ha preso All'ultimo secondo Ha fatto un tiro Fuori aria Non sa nemmeno lui come Stavate parlando Di quella traversa Lì E Pioli No no Mi stavamo parlando Dei giorni di ferie Di Natale Che giorni allenarsi Che giorni stare a casa Quindi pensa Che cosa c'era Nella testa Dei calciatori Appena ha fischiato L'arbitro Già è andato da Pioli A chiedergli Che giorni Che voleva fare Un giorno diverso Cioè tu pensa Cosa c'era nella testa Che al fischio finale Già sono andati a chiedere I giorni liberi Per Natale E questo Non me lo invento io Andatevi a vedere L'intervista su Dazon E lo dice Pioli E dice no Stavamo parlando Del 26 Perché se si allenano Il 26 Li lascia a casa Il 27 Tu pensa Cosa c'era nella testa Ancora in campo Questo ti fa capire Tante cose Perché poi Gagliani diceva Che il 22 dicembre Perdevamo le partite Per fortuna Abbiamo vinto L'Empoli Ci ha dato una mano Avessimo avuto Un Torino Così Non lo so Come andava a finire Però Abbiamo vinto E va bene Dimentichiamoci tutto A gennaio Si parte con un nuovo campionato Quindi adesso Andranno tutte in ferie Come vi stavo dicendo Si faranno le vacanze Natale Regalini C'è chi torna dalla famiglia Selemegas ha detto Che va in Belgio Sta un po' con la famiglia Che qui Poverino Poverino È da solo Ci sono lui E 16 gnocchi Ogni sera Che farà arrivare a casa Immagino Insieme al suo amico Leao Però poverino Però poverino è da solo Qua Quindi tornerà Dalla famiglia A festeggiare il Natale E poi Quando tornano Si riparte da capo Ragazzi Si riparte da capo Quindi Rimaniamo belli sereni Ormai tanto Quello che è stato fatto È stato fatto Io Sento alcuni arrabbiati Alcuni non arrabbiati Vi ho già detto ieri Il mio pensiero Alla fine I punti quelli sono È vero che abbiamo perso Dei punti stupidi Però ne avevamo guadagnati Altri in anticipo Forse che non ci aspettavamo Quindi Si può far meglio Dobbiamo sicuramente Far meglio Il girone di ritorno Iscrivetevi al canale Mettete un bel like Che tanto è a gratis Ricordatevi Che è l'ultimo giorno Per No Domani è l'ultimo giorno Per fare La promozione di Natale Di K-Calcio Ve ne ho già parlato Vi lascio come sempre Tutto in descrizione E niente ragazzuoli Ci Ci sentiamo domani Come sempre Ciao belli Ciao 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 Volete vedere la centrale? Volete che faccia vedere La stazione centrale? Io non la conosco Qua c'è un collega L'orologio L'orologio Qua sono dall'atto 4 novembre Che qua La gente non conosce Non sa E non conosce Non sa E non conosce Quando mi dicono Dove sei in centrale? Sono al posteggio taxi Ah è scemo di guerra Ci sono 4 posteggi taxi In centrale Vabbè Ciao ragazzi Vi saluto Ciao ciao ciao